ciao vivis e benvenuti nel mio canale youtube il mio nome è carmi e siamo qui riuniti anche oggi con il nostro italian tuesday il giorno della settimana in cui noi ci ritroviamo precisamente il martedì alle 4 di pomeriggio pronti a truccarci con un sacco di caffè davanti a noi perché ne abbiamo sempre bisogno io ho letto questa cosa che bere bevande calde aiuta sopportare meglio il caldo secondo me è una bugia perché questo è il secondo caffè e con tutte queste luci e con il caldo di londra che non è paragonabile a quello vostro italiano io mi sto squagliando poi c'è anche un po di allergia infatti questo questa narice qua continua a colare quindi scusate ogni tanto vederti un po di lucido buona fortuna comunque oggi sono qui perché volevo farvi un trucco molto molto semplice però l'idea che avevo era un trucco da matrimonio se sei in caso la sposa o se sei uno degli invitati come truccarti qualcosa di veramente molto molto leggero molto molto facile però allo stesso punto noi vogliamo qualcosa che si veda ho davanti a me tutti i prodotti drugstore tutti i prodotti che tra virgolette costano poco perché voi sapete che a me piace spendere poco e niente io sono uno di quei braccini corti cioè quando arriva il makeup io sono una di quelle persone in cui adoro a comprare tanto e avere un sacco di varianti invece che comprare una cosa che mi è costata il budget del mese e poi dico io avrei bisogno di qualcos'altro cioè mi capisci spero che siamo sullo stesso livello ti dico subito che cosa c'ho sugli occhi ho messo il mio primer che è l'unica cosa che costa un po di più che non è high end è più middle end ed è il mac soft worker paint pot e io non riesco a fare trucchi senza di questo per me è uno dei primer migliori quindi sì questa è l'unica cosa che per favore dammi come cheat perché non potrei fare un look altrimenti poi soprattutto perché voglio ricreare uno che voi avete visto su instagram e un sacco di voi avete detto ti riprego rifarlo quindi voglio utilizzare tutti i prodotti e vi darò anche due combinazioni alla fine per il rossetto vi darò l'orsetto nude e l'orsetto rosso se in caso voi volete cioè potete scegliere tra i due sorriso arciglia ho utilizzato il catrice il brow coloris che è quasi finito quindi sono leggermente un po' più sparse oggi ma in caso io nell'info box vi lascio tutto il i trucchi che ho utilizzato in ordine così ci troviamo quindi iniziamo come amici qua quindi vi faccio vedere io come mi trucco normalmente e vado con la revolution hydrating cream questa è la prima cosa che utilizzo sempre e poi vado subito negli occhi questa è una cosa che io faccio perché tra virgolette mi piace quando proprio la crema o il prime veramente si stende bene sul viso e la lasci per quei dieci minuti in cui veramente si assorbe e la pelle è pronta trovo certe volte che se vado subito con la crema e poi vado col fondotinta essendo che la pelle è leggermente bagnata va a finire che si muove tutto quanto il fondotinta non rimane bello incastrato dentro e fa un effetto un po casino praticamente ritroviamoci un'altra cosa che volevo dirvi è che oggi avevo in mente di fare un altro video sinceramente quindi non so se questo uscirà questo martedì o il prossimo in caso lo saprete perché voglio veramente provare i nuovi prodotti di revolution pro un sacco di voi mi avete chiesto però ancora non mi sono arrivati quindi scopriremo se riesco a fare quel video prima se il pacco mi arriva prima in caso se mi è arrivato ho già fatto il video lo lascio nell'info box giù se in caso volete vedere si revolution pro product che cosa ne penso iniziamo con gli occhi perché di solito faccio così soprattutto se sei a un evento importante una occasione importante io direi inizia sempre con gli occhi perché in caso se c'è anche un minimo di fall out o un po di polverina della dell'ombretto è facilissimo da rimuovere invece che poi avere tutte ste chiazzette sotto il correttore tutto quanto nessuno vuole quello quindi io inizio con la mia paletta che è la make magic di revolution questo è il trucco che ho fatto l'altro giorno quindi praticamente io lo ricreo e vado subito a utilizzare la shade chiamata confidence e piano piano con questo pennello da sfumatura leggermente bello larghetto io inizio qua nella crease a fare il mio blending perfetto bibis abbiamo utilizzato il primo colore e come ben vedete è bello sfumato quindi adesso vado con un pennello leggermente più piccolo che è questo qui e con il colore che si e inizio piano piano a tamburellare questa parte qua quindi inizio leggermente a darmi un pochettino di definizione una cosa molto veloce che voglio dire in caso mi chiediate nei commenti io cerco di anticiparvi se vi piace questo top questo body che praticamente ho addosso perché lo so che nel instagram un sacco di persone hanno chiesto io l'ho comprato da boohoo ho visto è ancora online c'è oggi nel senso mentre firmo io spero rimanga almeno finché sto video non esce vi lascio il link giù non è affiliato né niente e un'altra cosa positiva è che anche nel sale quindi sono sbaglio costa meno di 10 pound ed è molto bello una cosa che vi dico ha un materiale molto molto leggero non è di quelli che respira quindi tra virgolette si si suda con questo facilmente l'unica cosa è che è bello largo quindi se vi piacciono le cose super aderenti addosso gli direi andate tranquilli prendete una taglia anche più piccola perché io sono una taglia uk 12 e sinceramente avevo paura che fosse troppo stretto quindi ho preso la 14 e sinceramente è di una larghezza allucinante quindi se tornasse indietro prendere una taglia più piccola però secondo me in estate ci sta anche bene quindi in caso ragazzi è giù nell'info box io inizio continuamente a mettere questo colore come vedete si sta sfumando molto molto bene e vado di nuovo col pennello di prima a unificare le edges che sono praticamente la fine cioè dove si incontrano ecco siamo capiti passo adesso che un altro pennello da sfumatura questo qua è leggermente un po più piatto rispetto a quello di prima e vado col colore che si chiama flames quindi prendo questo aranciato e io prima inizio a tamburellarlo a spingere a picchiettare decidete voi noi sappiamo che il tamburello è molto carmi miui prima inizio qua proprio al centro dell'occhio come se facessi una spotlight quindi così come iniziate a vedere il colore è lì bello posizionato e poi quello che faccio è giro il pennello quindi dalla parte che è pulita e inizio a fare il back and forward tra i due colori quindi tra il you do you che è quello un po più scuro e l'arancione e da qui iniziamo a fare le sfumature perfetto questa parte qua è finita e abbiamo fatto anche l'arancione e come ben vedete è bello sfumato si sta trovando bene ci piace adesso cosa faccio prendo questo pennello qui che è il tisettore più ferme questo qua è un classico pennello da ombretto quindi sono quelli che proprio aiutano a depositare il prodotto e vado con questa shade qui che si chiama confidence che è questo colore matt e rimuovo l'eccesso e vado leggermente a spingerlo su questa parte centrale qui c'è l'inner corner dove non abbiamo utilizzato nessun ombretto e come vedete io vado praticamente a tamburellare o picchiettare decidete voi io direi di continuare a chiamare tamburello perché io adoro e quindi come vedete quando noi andiamo a depositare questo colore veramente da una mano a aprire quest'occhio perché tra virgolette certe volte utilizzare colori shimmer nell'inner corner si ti aiutano ti danno quell'effetto bello luccicoso tutto quanto però se volete dare un effetto aperto molto sveglio e matti gli direi di andare con un colore del genere quindi molto molto vicino al tuo incarnato anche un paio di tonalità più chiare questo da veramente un aiuto al trucco e sembra molto molto più smooth ritorno con il primissimo pennello faccio col mio palmo della mano così così sembra che non abbia più prodotto e veramente velocissimamente io faccio questi mezzi cerchi sugli occhietti così da sfumare il tutto quindi praticamente il lasciato sopra è finito cioè questo è tutto secondo me a un giorno del matrimonio già se se sei una sposa se sei invitata si devi svegliare prestissimo io direi di tagliare i tempi perché poi lo so che tra capelli vestiti la nonna la zia la cugina tutte le fotografie non abbiamo tempo per farci un trucco da otto ore e mezza vado con un pennello più piccolo adesso e torno con la shade you do you rimuovo questa parte qua e io vado nel sott'occhi e vado dall'inner corner verso l'aroc corner facendo sì che la parte più scura quindi dove deposito più il prodotto è la fine così questo mi aiuterà dopo che facciamo l'eyeliner a dare quell'effetto un po più scuro quindi più allungato e proprio quello che mi rimane nel pennello vado verso il davanti quindi come se vedete come se vedete non è italiano aiuto come ben vedete la parte fuori è leggermente più scura è proprio il fatto di aggiungere questo colore qua veramente aiuta tanto ad aprire l'occhio soprattutto dopo vi ho detto quando facciamo l'eyeliner verrà una mano quindi io faccio anche l'altra parte e poi vado a prendere il mio eyeliner abbiamo quasi completato la parte ombretti lascio proprio l'ultimissimo per il sott'occhi alla fine dopo che metto il correttore e vi spiegherò dopo il perché ma adesso passiamo all'eyeliner io adoro tantissimo questo eyeliner qui che è del l splash e la ragione in cui io amo questo qua è perché è uno bello ricco di pigmenti neri è waterproof quindi se in caso c'è una lacrima sul viso questo rimane e vi giuro questo veramente rimane e la tip non è una una filter pen quindi non è una penna filtra credo si dica non mi ricordo è praticamente sono dei pennellini quindi delle bristle come se fosse praticamente un pennello e io adoro questo qua perché veramente è morbido abbastanza da dare un bel effetto però non mi fa lo skipping perché io ho un bel po' di rughette sugli occhietti non so non ho gli occhi smooth sono un po' al saltarello quindi io praticamente inizio sempre dalla parte centrale e piano piano spingo il prodotto dentro e vado veramente molto molto vicino alla mia attaccatura delle ciglia così che dopo quando mettiamo il mascara e le lashes veramente non rimane quel ombretta di ombretto di tra virgolette pelle chiara ma è proprio nero come le desideriamo quindi io inizio così e poi continuo e piano piano faccio il mio eyeliner adesso ci possiamo veramente regalare quei cinque secondi davanti allo specchio in cui noi ci diciamo quanto belli siamo e soprattutto meno male che anche oggi l'eyeliner è venuto bene quindi noi passiamo al prossimo step sperando di non fare un bubu mess e questa volta andiamo con l'eyeliner e questo qua è glitterato la ragione per cui ho utilizzato come base l'eyeliner nero è perché se utilizzi almeno questi qua specifici dell'eyel splash se non hai una base sotto sono molto molto belli e certe volte li utilizzo proprio sugli occhi per dare quell'effetto molto shimmery glow e glittery ed è stupendo però se vuoi creare un eyeliner bello perfetto in cui veramente non salti niente hai bisogno di una base sotto quindi questo è il motivo per cui ho messo l'eyeliner nero in caso mi stai chiedendo perché sto facendo un eyeliner sopra un altro e la parte bella di questo qua è non solo agli sbrillucci coni marroni quasi bronzi ma il fatto che tra virgolette se per esempio hai fatto un bubu quindi tra virgolette il tuo eyeliner non è crispy perfetto il fatto che ci voglio mettere sopra dei glitter aiuta tantissimo perché praticamente fanno un sacco di riflesso non so se già si vedono e quindi tra virgolette tolgono l'effetto di opaco e sapete tantissimo che le cose tra virgolette opache molto più sharp veramente si vedono se salti qualcosa quando invece c'è la luce riflesso tolgato l'occhio non dà tanto a vedere quindi noi continuiamo a mettere questo e come vedete io lo metto praticamente dappertutto bibis sono tornato e come vedete gli occhietti sono praticamente quasi finiti ho messo il mio mascara ho messo le ciglia finte e vi lascio giù nella description ancora una volta tutto quello che ho messo comunque in caso sono questi due qui ma noi passiamo subitissimo a la faccia perché sinceramente ho bisogno di dare una mano a questi occhi perché sono talmente carini che guardare tutto il resto veramente non rende per niente quindi noi passiamo subito con il conceal and correct di revolution e questo qua è nella tonalità arancione e ne metto proprio leggermente un pochetto attorno a voi non serve e se serve sicuramente non servirà così tanto però voi sapete io tengo la babba e a me serve un po di arancione io non ridippo due volte praticamente uso solo un dipping come vedete veramente a me lascia tantissimo prodotto lo chiudo perché ce n'è tanto e vado con questo pennellino qui che non è un pennellino un pennellone e praticamente io vado a fare la mia sfumatura il mio tamburello e vado a picchiettare non utilizzo quando faccio cose del genere spugnetta roba varia perché praticamente assorbirebbe troppo prodotto e dovrei comunque ritornare dentro la tratta con l'arancio mentre se faccio cose del genere a me veramente da una mano proprio a depositare il prodotto e poi quello che mi rimane io faccio anche il collo ditemi la verità non vi sembro un'umpa-lumpa io spererei tanto di sì quindi noi passiamo al prossimo prodotto allora adesso vi svelo uno dei miei segreti e vi giuro che questo qua io lo utilizzo sempre quando faccio il core correcting che è praticamente utilizzare una cipria per settarlo per poi andare col mio fondotinta al mio correttore cose varie e un sacco di voi mi chiederanno Carmine utilizzare un powder sopra a un fondotinta o un correttore poi andarci a mettere altro roba liquida farà un macello vi giuro no è una cosa spettacolare vi insegno anche come e con questa parte qua io praticamente vado a picchiettare dappertutto e la motivazione per cui faccio ciao è perché se il correttore arancione è ancora troppo bagnato o comunque è non è tra virgolette come dicono in italia piallato veramente va a finire che una volta che voi ci mettete il correttore o il fondotinta si vanno a mischiare e poi diventate praticamente un salmone che come look è stupendo ma non è il look di oggi immaginate che noi devono il matrimonio non vorremmo essere un salmone sinceramente quindi come ben vedete io ci sto mettendo proprio un sacco di cipria molto molto velocemente e già il colore sta cambiando vedete adesso da com'era bello carico sta diventando molto 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 più tenue molto molto più chiaro e come vedete io praticamente sto solo spingendo il prodotto dentro e quando vado a toccare con le mani non c'è il transfer e questa è la cosa migliore perché adesso che andremo subito col nostro fondo noi praticamente copriamo e basta non abbiamo il problema di fare un un macello un transfer allucinante e qui vi chiedo se in caso volete fatemi sapere giù nei commenti se volete un video in cui io vi svelo cinque segreti che tra virgolette makeup artist o persone che tra virgolette fanno il makeup normalmente non dicono si tengono per sé come per esempio questo tip che è utilizzare il cc correttore e poi andare con la powder e poi andare col fondo tinta io ne ho un bel po di piccoli segreti quindi se a voi interessa un video di segreti fatemi sapere giù nei commenti e io vi do tutti i miei segreti però mi raccomando non titola nessuno cioè è tra di noi vado con questo fondo tinta qua che questo qua è quello della revolution pro e si chiama il foundation drops tonalità f10 e io vi dico che questo fondo tinta anche se non è a coprenza altissima come di solito vado col mio maybelline super stay o even il revolution conceal and define foundation questo qua è quello che fa le miglior foto cioè questo qua in fotografia è assolutamente bellissimo da praticamente come se fosse sensazione di di pelle e quindi io praticamente lo adoro e come vedete io ci metto 3 4 drops e poi vado con il mio pennello e vado a tomborellare vi faccio vedere subitissimo guardate qui punto primo il matching con me è molto molto bello ma anche il fatto che non si sta mischiando con il correttore arancione va praticamente solo a coprirlo quindi io faccio velocissimamente questa parte qui e tonno adesso abbiamo seduto il nostro fondo tinta passiamo al correttore e vado col fast base di revolution questo qua è nella tonità c5 e vado praticamente ad aggiungere il sott'occhi così da illuminare ulteriormente prendo leggermente al centro del della mia fronte vado giù per il naso qui sulla cupid's bow e poi faccio un pochettino qua sulla chin e se in caso mi serve perché vedo che c'è un pochettino di distacco perché secondo me questo correttore scusami il fondo tinta forse è leggermente un po più scuretto di me io vado subito con un pochettino di correttore proprio qui e questa volta per sommare utilizzo un pennello pulito nel senso questo pennello è quello che di solito vado con i miei concealer quindi con i miei correttori quindi si non è pulitissimo però non avevo voglia di lavarlo quindi io vado praticamente qui a fare il blending fino a che non arrivo al mio tatuaggio e come vedete molto molto meglio quindi faccio così vado qui nella chin e inizio a fare il blending e questo correttore vi giuro ha una sfumabilità allucinante coprenza è decisamente molto più sul medio non è altissima però sinceramente adoro il modo in cui veramente si si deposita sulla faccia cioè nel senso è veramente molto molto più naturale io adoro tantissimo correttori belli pesanti come sapete io ci vado proprio dentro col fondo tinta il correttore però ogni tanto vi dico soprattutto sui sott'occhi adoro qualcosa un pochettino più leggera soprattutto quando so che andrò a utilizzare questo makeup per una giornata molto molto più lunga così da prevenire la separazione o prevenire che sembra troppo secco cioè i matrimoni soprattutto in Italia durano un bel po' non sono tipo quei matrimoni qua che sono un paio d'ore un afternoon poi si va a mangiare velocissimamente in Italia tu inizi la mattina prima che il sole si svegli e vai a dormire dopo che il sole se ne è andato a cuccare cioè praticamente noi noi sappiamo fare i parti in Italia vado con un pennello pulito e vado ulteriormente a sommare il tutto lo so che per tantissimi di voi sembra veramente una cosa cioè carmi un altro pennello però vi dico questa è una delle cose che io faccio tanto cioè ho sempre due tre pennelli per il fondotinta e il correttore mi serve uno per il fondotinta uno per il correttore e uno per amalgamare il tutto perché veramente vi dà un finish pazzesco senza che rimangano live strisce e macchie come ben vedete veramente cioè questo questo finish è molto 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 bello e vi dico è il fatto che tra virgolette io deposito tanto prodotto e poi con un pennello pulito e vado attorno si assorbe un sacco del prodotto che non serve e mi lascia veramente un aeroplano mi lascia veramente bello che illuminato e so che questo fondotinta mi dura tutto il giorno prima di passare al contouring io torno un'altra volta con la cipria e faccio un super setting dappertutto e come vi dicevo l'altra volta questa cipria secondo me è molto molto valida perché anche se c'ho la pelle secca questa qua veramente non si stratifica e non ti fa il deserto ma veramente ti toglie solo quell'eccesso di lucentezza e fa sì che il makeup è bello settato e se avete notato io sto utilizzando un altro pennello questo qua è pulito quello di prima che era utilizzato dopo il cc arancione se vado ad utilizzare adesso va veramente a finire che io mischio un po delle setole arancioni con qui è veramente andiamo un'arancia meccanica però non nel termine bello del film ma proprio nel termine che veramente sembriamo una spremuta vado come contouring e utilizzo questo qua di revolution che è il renaissance galore come ben sapete questo è uno dei miei preferiti cioè per me la tonalità qua di contouring è spot on per me perché non solo veramente mi lascia questo effetto molto molto naturale ma ha quella tonalità leggermente grigia che dà proprio l'effetto di sono una kardashian ma sono una versione senza essersi rifatta quindi sono sono italiana questo voglio di per noi le kardashian sono stupende però in verità la kardashian è solo un'italiana che si è rifatta troppo perché noi italiani siamo i più belli cioè non dirlo a nessuno però noi siamo vrenzole dentro il contouring è stato finito e come ben vedete adesso siamo belli strutturati c'è praticamente noi sembriamo un palazzo e passiamo all'illuminante quello che utilizzerò oggi è questo qua di milani e si chiama strobe light in sunset glow quindi il 05 e aggiungo proprio un pochettino qui così l'altra volta nel senso nel mio video quello di instagram avevo anzi utilizzato quello della mia palette in collaborazione con revolution la kiss of fire però non voglio farvi sempre vedere le cose utilizzando solo i miei prodotti perché sembra veramente una televendita anche se non lo è io sono di quelle persone che adoro utilizzare gli stessi prodotti più volte e poi mi chiedete sempre di far vedere i tutorial però un conto era far vedere questo tutorial degli occhi che era leggermente diverso un conto era che io mi mettessi un'altra volta il mio illuminante quindi vado a utilizzare questo qua e credo che ci sia milani in italia e se non c'è so che beauty bay lo vende e beauty bay lo spedisce in italia però è un illuminante molto molto bella a me sinceramente piace non è esagerato e secondo me va anche bene perché quando sei in un matrimonio cioè vuoi sentirti bene vuoi sentirti la più bella del reame però non vuoi essere più figata la sposa se no non ti inviterà mai più e questa è la verità ma sinceramente anche qualcosa di un po più sato secondo me sai come dopo il vestitone che ti metterai tutto il mangiare che mangeremo non vedo l'ora sinceramente se qualcuno ha un matrimonio in vicinanza ti prego invitami io ti faccio pure il trucco tu fammi mangiare qualcosa perché non vado in un matrimonio italiano da troppo tempo l'ultima cosa che faccio prima che vado a mettere i rossetti quindi vi faccio vedere il nude e anche quello rosso vado ad utilizzare l'ultima volta la mia paletta e questa volta vi faccio vedere il perché perché un sacco di voi mi chiedete sempre carmi se fai gli occhi prima com'è che riesci a fare il blending tra il correttore e il tuo eye shadows la verità è che io lascio sempre l'ultimo step alla fine quindi una volta che abbiamo messo il correttore e abbiamo messo la powder e poi ci abbiamo sopra l'eye shadow rimane una linea veramente sottilissima in cui praticamente il correttore è andato sopra l'eye shadow in modo che si blendi molto molto bene quindi per togliere quell'effetto di macchiolina io ritorno un'altra volta e questa volta vado con flames e guardo proprio in su e faccio un blending molto molto leggero cioè si intravede a malapena però credetemi che aggiungere questo colore crea veramente una differenza allucinante soprattutto in real life quando voi veramente notate che c'è sembra tutto fatto apposta sembra che lo skin sia proprio la vostra l'ombretto sia vostro cioè tutto è perfetto quindi prendete un po' di tempo e fate così è una cosa che veramente io dico tantissimo nei miei video in inglese e lo dirò anche nei video italiani anche il modo in cui voi utilizzate il pennello veramente cambia tantissimo perché se utilizziamo il pennello così quindi vado verso avanti le setole va a finire che si aprono e ti sposta tutto l'arancione sotto e veramente ti arriva fino a alle tizze mentre se tu usi il pennello verso il sopra aiuta soltanto a fare il blending ed è molto molto più preciso e sinceramente quest'occhio è fatto quindi come vi dicevo io andrò a fare il mio lips prima utilizzerò questo qua che è quello nude e soprattutto perché è più facile da togliere ed è di Revolution questo qua è lo Sheer Brilliance in Muse quindi questo qua è un... oh un peletto questo è il mio perché lo continuo ad utilizzare ti levi per favore io che schifo io e vado praticamente a mettere questo nude sopra se l'apro allora di this abbiamo completato il look con il rossetto nude e questo è il tutto spero vi piaccia ho sciolto i capelli quindi sapete che la puletra in me è appena uscita e sinceramente mi sta piacendo quando metti il rossetto nude veramente tutto è sul focus degli occhi sulla pelle che secondo me è veramente bella ha un effetto molto levigato e poi soprattutto i capelli grossi cioè i capelli voluminosi abbiamo poi il vestito e roba del genere quindi tra virgolette è molto molto più leggero una cosa che vi posso dire quando mettete rossetti nude che sono secondo me migliori per quanto riguarda il daytime perché immaginate che dovete mangiare dovete poi parlare poi un sacco di volte quante volte noi in Italia quando incontriamo i parenti diamo i bacetti io adoro però dopo aver baciato 70.000 persone il rossetto rosso va in cuollo a tutti quanti quindi io direi vai con un nude poi quando la sera si sta per trasformare quando si balla sulla pista quando c'è la cantante io direi di andare con il rossetto rosso quindi velocemente io mi tolgo questo rossetto e vado con questo qui che è di Cosmify e Erika Chioba che a me è piaciuto tantissimo fammi vedere se riesco ad aprirlo l'ho rimesso nelle scatolette perché io sono un po' osidico le cose cioè a me piace tutto nella scatoletta è questo rossetto molto molto bello è il numero 10 euridice euridice ha uno smell cioè l'odore è stupendo è veramente sa di Argan Oil molto molto bello molto valido tendenziale sul più il matte quindi un pochettino più secco però non lo trovo secco tanto quanto un Retro Matte di MAC o un rossetto liquido matte che certe volte veramente si secca tantissimo questo qua essendo che c'è l'Argan Oil aiuta tantissimo poi durante la giornata io l'ho messo e l'ho tenuto per 4-5 ore e veramente mi sembrava di non avere un rossetto secco rosso quindi decisamente molto molto bello quindi io mi levo il rossetto nude e torno in un secondissimo per voi sarà un secondo per me sarà la sfida del tempo ecco qui Bibis questo è il look con il rossetto rosso e devo dire la verità a me piace tantissimo cioè secondo me un rossetto così veramente dà quel tocco in più al look sembra veramente molto più complesso sembra veramente che noi abbiamo speso un sacco di tempo invece noi abbiamo praticamente solo invertito tra il nude e il red e veramente dà un senso molto più da da leopardessa non so nemmeno se fosse o sia un termine italiano comunque sicuramente qualcuno me lo scriverà sotto e dirà Carmi ti prego comprati il dizionario perché ti serve comunque ragazzi io spero vi sia piaciuto questo look io mi sono divertito tantissimo se avete un matrimonio se avete un'occasione se avete qualsiasi cosa in cui vi serviva ispirazione io spero di avervi dato una mano non so che cos'è questa voce chi sono adesso non lo so io ogni tanto ho delle voci dentro di me che escono quindi scusate però fateci l'abitudine perché se tornate qui tutti i martedì lo scoprirete che io ci vado un po' di capa soprattutto questo caldo quindi ragazzi e ragazze beautiful babies io me ne vo vi lascio alla vostra bellissima giornata mi raccomando fatemi sapere giù nei commenti qua sotto se vi è piaciuto questo video datemi una good thumbs up se volete iscrivetevi al canale ricordatevi che tutti i martedì alle 4 del pomeriggio saremo qui riuniti per il nostro Italian Tuesday se volete fatelo sharing quindi fate vedere alle vostre compagnielle che Carmi è qui pronto per truccarsi anche oggi e always remember like if you like hate if you hate and until next time you're welcome